Dopo il libro inchiesta dello scorso anno sulla Fabian Society e la pandemia è uscita un'altra pubblicazione incentrata sull'alta finanza, appunto il Covid e la fine della sovranità popolare. Che cosa racchiudono queste 110 pagine? Il libro si incentra, grazie anche all'aiuto di un professore universitario, il professor Fabio Vighi, a studiare cosa è avvenuto nel mondo dell'alta finanza internazionale, nel mondo dei mercati finanziari, nei mesi precedenti allo scoppio della vicenda Covid-19. E capiamo, in questo modo, che lo scoppio della vicenda Covid-19 e la gestione di essa attraverso le chiusure è stata fondamentale per la salvezza del sistema finanziario internazionale. Questa è la tesi centrale del libro. Ha influito anche il conflitto russo-ucraino? Sì, ha influito perché abbiamo compreso che il sistema, per una serie di ragioni che nel libro vengono spiegate, ha bisogno per reggersi di continue emergenze. Emergenze che tra l'altro consentono di irregimentare le popolazioni, di impedire che possano esprimere dissenso rispetto alle decisioni del sistema. E il conflitto russo-ucraino è arrivato proprio al momento giusto, quando l'emergenza Covid-19 cominciava a mostrare la corda, cominciava a sembrare meno credibile e veniva percepita meno come minaccia, ecco che subito sulla scena è arrivata l'emergenza bellica col conflitto russo-ucraino. Questa ha immediatamente provocato un'ulteriore emergenza, che è quella energetica e inflattiva, e alle porte in autunno sappiamo che ci aspetta una emergenza economica. Questo ci dice che il sistema, le classi dirigenti internazionali, hanno bisogno o hanno deciso di governarci tramite emergenze, che fruttano loro una serie di vantaggi che mettiamo fuoco nel testo. Secondo lei è necessaria una riflessione politica sul ruolo degli Stati? Sì, perché abbiamo visto che gli Stati hanno il potere di stravolgere le nostre vite, di toglierci le libertà con l'alibi di emergenze varie, prima il Covid, adesso eventuali altri, ad esempio lockdown energetici, lo Stato è in possesso di un potere che condiziona troppo le nostre vite e le nostre libertà. Quindi va assolutamente ripensato e nel libro c'è una proposta in tal senso.